Nella mattinata odierna i militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone, gravemente indiziate a vario titolo, di associazione per delinquere, usura, estorsione e detenzione illegale di armi da fuoco, tutti reati e aggravati dalle modalità mafiose. L'indagine è stata avviata a seguito dell'omicidio di Marinello Vincenzo, alias Ocamuristiel, capo dell'omonimo clan, operanti in Acerra e comuni limitrofi, avvenuto ad Acerra il 17 febbraio 2019, i cui autori ad oggi non sono stati individuati. Nel corso delle investigazioni sono stati identificati il vertice e i collaboratori di un gruppo criminale dedito principalmente all'usura, nonché alcune vittime di estorsione, tra cui due artigiani. Inoltre è stato accertato il tasso usuraio applicato al sodalizio, che variava dall'8% al 120% mensile. Emerso anche che lo stesso Marinello Vincenzo era stato frittuore di un prestito da parte di uno suo sodale, arrestato con l'operazione odierna a seguito del quale ne sarebbero derivate frizioni interne al clan che avrebbero poi portato all'esecuzione in Marinello.